abbiamo cucito la tuta ora cuciamo il vestito il cartomodello è sempre quello valerie lo trovate sulla mia marceria online in questo caso per il vestito ho posizionato tutti i pezzi nel ripiego della stoffa che così non ho la cucitura centrale perché in effetti con il vestito questa cosa non mi serviva poi procedo come per la tuta quindi vado a fliselinare le parti interne del vestito e a stirare a metà insomma le spalline con la parte tritta della stoffa all'interno così le preparo per la cucitura che farò dopo già che ho il ferro attaccato stiro anche le pens quindi le preparo e le fermo con gli spilli vado a cucire le pens a macchina procedimento sempre lo stesso ve l'ho fatto vedere nell'altro video e poi passo alla taglia cuci se non ce l'avete punto zigzag va benissimo e bordo la parte inferiore delle due parti interne dell'abito già che le avevo sotto mano cucito anche le spalline entrambe e le ho rigirate poi al dritto con il solito uncino per rivoltare i tubolari ora che tutti i pezzi sono pronti li vado ad assemblare insieme quindi posiziono al dritto contro dritto la parte davanti interna con il davanti dell'abito in mezzo ci posiziono le spalline quindi l'estremità delle spalline la spallina appende verso il basso fermo con gli spilli prima la parte delle spalline poi continuo a fissare con gli spilli tutto il bordo superiore andrò a fare una cucitura con punto dritto con la macchina per cucire e poi con le forbici vado ad incidere prima la parte della scollatura a v sempre nel margine in cucitura tolgo l'eccesso di stoffa la delle spalline e poi faccio questi piccoli taglietti sulle parti curve per aiutarmi poi a rigirare al meglio al dritto in modo tale che il dritto poi non faccia difetto stiro verso l'interno il ripiego e poi vado a prendere la parte dietro e faccio la stessa cosa quindi prendo l'altra estremità della spallina la fisso sul sull'abito e sovrappongo sopra il ripiego interno in questo caso appunto della parte dietro e procede esattamente allo stesso modo come prima quindi fisso gli spilli sulle spalline poi tutta la parte superiore faccio la mia cucitura con punto dritto anche qui e anche qui vado poi a togliere l'eccesso di stoffa sulle spalline incido la parte centrale della scollatore a v e poi le parti curve rigiro al dritto anche qui mi aiuterò poi con il foro da stiro per appiattire bene tutta questa parte e mi sposto sulla taglia cuci perché vado a bordare tutti i laterali del vestito finito questo passaggio vestito al dritto contro dritto e allineo appunto i due laterali li fermo con gli spilli e vado a cucire la parte del ripiego interno è sollevata quindi la sollevo in questo modo e la prendo nella cucitura laterale quindi continuo giù tutta la mia cucitura appunto dritto siamo sulla macchina per cucire non resta che fissare diciamo la parte del ripiego verso l'interno quindi l'ho abbassata ho fermato e con una cucitura sul laterale e la cucitura che sto facendo adesso praticamente proprio nascosta nella cucitura laterale la faccio sul davanti per avere più controllo in modo che poi all'esterno del vestito non non si veda niente semplicemente un punto dritto e il risultato è questo qui poi se volete potete anche fare una cucitura lungo tutta la parte alta dell'abito anche questa la faccio al dritto del del vestito per appiattire bene tutta la parte superiore in questo caso secondo me non si vede neanche tanto perché la fantasia della stoffa comunque camuffa molto questa cucitura però valutate in base al tessuto che state utilizzando se questo passaggio vi può piacere oppure se lo potete anche omettere manca solo l'orlo piegato di un centimetro verso l'interno e poi nuovamente di un centimetro e ho fatto la mia cucitura questo è l'abito finito che potete personalizzare come volete perché lo potete mettere una cinta in vita potete farlo più lungo potete farlo più corto a top fatemi sapere se vi piace grazie a tutti grazie a tutti